Il parco degli eucalipti al santuario della Madonnina delle Tre Fontane, un posto ameno di preghiera e di riflessione, un bellissimo posto dove venire a fare delle passeggiate, a riposare e a meditare. Sono tutti eucalipti e ogni tanto si incrocia anche una statua di marmo, ci sono varie statue di marmo, tanti religiosi e in particolare c'è al santuario delle Tre Fontane, appunto della Madonna delle Tre Fontane, la grotta della Madonna da visitare con tutti gli ex voto. Oggi è martedì 29 giugno 2010.